Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Kill Team, gioco di scontri skirmish in ambientazione Warhammer 40.000 che è un vero spettacolo e per tutti gli amanti di Mordheim o Warcry che cercavano qualcosa del genere non battaglie fra eserciti ma skirmish, appunto ambientate nei 40.000 finalmente è arrivato il gioco che stavano aspettando e sognando da tempo. Se vedete una luce particolare molto differente in questo video è perché abbiamo comprato un LED ring quindi stiamo provando un'illuminazione nuova che purtroppo qui nel zopparco il proprio problema principale è la mancanza della luce del sole. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Warhammer 40.000 Kill Team della Games Workshop, come vi dicevo poc'anzi nella presentazione prima della sigla è un gioco di scontri a skirmaglie, quindi per piccoli eserciti come vedete qui davanti più che altro Warband alla fin fine, Kill Team un po' come Warcry e Mordheim vedete qui davanti nella ristampa del set base abbiamo da una parte Fire Warriors de Tau con delle torrette, ora poi vi faccio vedere un po' come funziona e da quest'altra parte invece i Ravers degli Space Wolves. Intanto colgo l'occasione per ringraziare sempre il primo link in descrizione e in sovrimpressione la giocolibreria Semola per averci offerto questa scatola di base. Grazie di cuore, grazie Corrado, è sempre un immenso piacere collaborare con te poi tanto vi dirò a fine come ordinarlo ovviamente con lo sconto del canale. La versione che vedete qui davanti è in inglese ma non vi preoccupate esiste tranquillamente la versione completamente localizzata in italiano solo che alla giocolibreria Semola era rimasta soltanto questa l'ho detto aspetta non me lo stare a riordinare dammi direttamente quella in inglese tanto voglio di le conosco le regole di Warhammer e poi la GV ha sempre fatto un inglese scolastico alla portata di tutti. Si parla di giochi di battaglie, si parla di giochi che per chi viene da Mordheim appunto da Warcry non ci troverà niente di nuovo con liste dove ovviamente potete fare un vostro kill team tipo di 5-6 Space Marine andare ad equipaggiare, metterci il capitano, metterci l'eroe li ambienti come vedete gli scenari qui davanti ragazzi non abbiamo colorato niente ma lo faremo in futuro anche per fare un primo video. Gli scenari sono veramente bellissimi e modulari come tutti quelli della GV è roba veramente da paura e le battaglie sono a schermaglia una cosa che sto apprezzando, poi se va avanti vi spiego un po' come funziona da morire della GV è che a parte farne un gioco alla portata di tutti hanno abbassato anche un po' i costi e tutto quanto hanno cercato anche con lo stesso Warhammer 40.000 gioco di eserciti di farlo sia a sconti fra eserciti da 1000-2000 punti che da piccole bande che arrivano a malapena a 500 e questo gioco qui praticamente non fa distinzione lo stesso identico uguale perché ha la possibilità di fare dei kill team un pochino più corposi e dei kill team anche da 3-4 miniature fondamentalmente per quanto si vanno a gara al punteggio perché come vedete 5 Space Marine valgono 10 Fire Warriors più una torretta e più ovviamente due droni volanti uno d'attacco e uno di difesa perché le Space Marine sono notoriamente più forti e equipaggiati ambientazione 40.000 c'è la possibilità di giocare in battaglie singole in schermaglie oppure in una vera e propria campagna con addirittura conquista dei territori e una specie di storia da portare avanti dopo ogni vittoria e ogni sconfitta che potrebbe cambiare appunto il corso della storia vi spiego un pochino come funziona ma prima di tutto unboxing quello che c'è dentro la confezione di kill team è il regolamento che questa è la versione in inglese ma come vi ho detto non vi preoccupate c'è anche in italiano che è bello cicciotto corposo ma perché ci sono tutte le liste dei kill team e soprattutto c'è la lore ci sono tutte quante le missioni quindi è cicciotto ma la fin fine di regole ci saranno 7-8 pagine da questa parte di qua vedete una squadra di assaltatori di ravers degli space wolves mentre invece da quest'altra parte un bel corposo fire team comprensivo di torrette di attacco e di difesa e di torretta lanciamissili per l'esercito appunto e il kill team dei Tau poi abbiamo tutte quante le carte che sono carte tattica ovviamente che vanno acquistate spendendo punti comando che sono il succo del gioco e sono quelle degli space wolves quelle dei Tau e poi ve le giro ve le faccio vedere e poi direttamente queste qui che sono per fare le liste degli eserciti vedete potete segnare qua su in cima il nome con tutte quante le caratteristiche e vedete poi le armi con cosa sono equipaggiati che ne so fire warriors è inutile fare una scheda per ogni fire warrior una generica tutte le armi con cui sono equipaggiati e le caratteristiche il vecchio e caro misuratore in unità imperiali i dadi da gioco due bustine per conservare i token che tenetele da parte perché sono un pochino le liste degli eserciti che sono i fangs of wolfrick e l'advanced team star pools dei Tau vedete le liste degli eserciti direttamente e poi un piccolo regolamento più che altro una specie di piccolo tutorial che vi dice inizia da qui fai la prima partita con le regole semplificate e poi magari dopo vai avanti con quelle un pochino più estese token tutti quanti i token e poi qui accanto un game mat in cartoncino e ora vi faccio vedere leggermente come funziona le regole sono quelle del nuovo Warhammer 40.000 per quanto questo Kill Team se vedete qui davanti è il vecchio logo non è l'ultima edizione però praticamente le regole sono le stesse laddove si ha un valore di attacco per ogni truppa un valore balistico che va eguagliato o superato tirando il dado e le regole ragazzi sono quelle non ve le sto a rispiegare ve lo faccio velocemente sono sempre le stesse alla fin fine di Warcry all'inizio di ogni turno c'è da tirare due dadi da 6 chi fa risultato più alto se no si va allo spareggio all'iniziativa e quando si ha l'iniziativa la squadra e il Kill Team che ha l'iniziativa può muovere tutte le proprie pedine non una io e una te una io e una te ma tutte quante quindi andandola a muovere le azioni che si possono fare sono il turno è diviso in movimento la prima cosa di tutte che bisogna fare dopo il movimento c'è la possibilità di andare a caricare poi ci sono i poteri psionici degli psichici e poi dopo c'è l'attacco ovviamente attacco che si divide attacca a distanza e poi successivamente attacca in corpo a corpo quindi quando muovete le truppe le truppe hanno un valore di movimento sul campo di battaglia che dovete andare a misurare col metrino e durante il movimento si possono fare variazioni perché c'è il movimento normale che non puoi arrivare a meno di un'unità imperiale non puoi arrivare in corpo a corpo col movimento carica che si vanno a tirare tot di 6 e quelli sono da sommare ovviamente alla mobilità del personaggio e quello è la carica per arrivarti in corpo a corpo quindi se la carica fallisce non arrivo in corpo a corpo se ti arrivo entro e quindi dentro quell'unità imperiale della tua truppa ti sono in corpo a corpo nemico che si può ritirare non durante una carica oppure durante un ingaggio come parte del movimento può provare a distaccarsi o c'è la risposta il fuoco perché ovviamente quando una truppa di carica c'è la possibilità di provare a sparargli anche se lo colpirete soltanto col 6 e poi successivamente c'è la fase di corpo a corpo quindi come funziona un turno in Warhammer Kill Team movimento mio movimento delle tue truppe carica mia carica delle tue truppe quindi tutte quante azioni di movimento azione di fuoco perché anche le truppe mentre si muovono possono muovere e sparare ora mentre caricano magari no c'è quell'altro che ti risponde però muovo, sparo e successivamente c'è la fase di assalto come in Warhammer 40.000 quindi le mie, le tue, le mie, le tue ognuno fa la propria fase con tutte le miniature e poi tocca all'altro giocatore si va ovviamente a sfruttare in questo scenario la verticalità e ora poi alla fine vi dico una cosa dello scenario laddove vedete c'è una scala una scala che può essere scalata per andare sopra per mettere delle truppe sopra e quindi sfruttare il fatto della posizione non soltanto in copertura nel caso abbia un muretto davanti ma anche per il fatto della posizione sopraelevata per scavarcare gli scenari non c'è da fare nessun test ovvio se ci si deve buttare di sotto si devono contare le unità imperiali se no ci si va a fare danno almeno che l'unità non sia volante o non abbia un jetpack e le solite regole ragazzi alla fin fine si va a misurare se si arriva col tiro si va a misurare se col movimento ce la faccio a montare sulla struttura ed è lo stesso regolamento pari 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 di Warhammer 40.000 o di Warcry quindi anche inutile stalla a spiegare completamente c'è l'abilità psionica ci sono i poteri quindi c'è tutto se siete veramente io mi ci veniva da piange perché mi ricordo ne parlavo con il mio amico Manu mio moderatore dicevo ma è mai possibile che c'è Mordheim c'è Age of Sigmar Warcry che è bellissimo ma io voglio già il 40.000 a me piace il 40.000 non c'è uno skirmish game nel 40.000 ed eccolo per quanto vi ripeto lo stesso Warhammer 40.000 permette di fare eserciti molto più piccoli che in passato era impossibile cioè devi mettere il QG almeno due squadre ora no e quindi ti permette anche invece magari di giocare con 20 Space Marine ti consente di giocare con 10 quindi è già una cosa buona e questo Kill Team è alla portata ragazzi di tutti e per tutti coloro che come me cercavano un gioco veloce partite da un'oretta 40 minuti un'oretta direttamente battaglie piccole skirmish game nel 40.000 il regolamento ragazzi è facilissimo ve l'ho detto in versione inglese bello corposo ma perché ci sono le liste di tutti gli eserciti tutti cioè non dovete compare niente a parte a parte adepta sororita se altri gruppi del genere che erano dentro un piccolo almanacco comunque poca roba trovate le liste direttamente online o se scaricate l'app per telefonino Kill Team avete tutte le liste in più è bellina perché potete farvi la lista e salvarle ad aggiornarla quindi dall'app store andatela direttamente a scaricare ragazzi è una figata disumana e questo che vedete qui è una ristampa con le Space Wolf e i Tau nella prima versione invece che è la stessa solo cambiava la scatola si aveva uno scenario proprio in città urban quindi non una specie di fabbrica io preferisco la fabbrica sono proprio fissato si aveva uno scenario più urban e dentro c'erano il culto dei Jane Steeler e gli schitari della Deptus Mechanicus quindi era semplicemente differente per il contenuto poi alla fin fine il succo è lo stesso ragazzi è uno spettacolo è bellissimo finalmente uno skill mi sciambiettato nei 40.000 grazie GV non vedevo l'ora e io corgo l'occasione per ringraziare la giocolibreria Semola che ci ha offerto tutta questa roba importantissimo ragazzi se lo volete ordinare dal negozio di giocolibreria Semola usate sempre il codice sconto che trovate in descrizione e poi vedete il logo in sovrimpressione Coridan 7 Coridan 7 come numero per avere uno sconto del 7% e non pagate mai le spese postali in tutta Europa quindi da dove ordinate ordinate ve lo mandano direttamente a casa in 48 ore scontato del 7% andate a vedere perché oltre ad avercene ancora qualche copia al negozio io penso che sia un gioco che se fanno una nuova edizione magari uscirà anche come tutti i giochi della GV uscirà anche di produzione quindi dateci un occhio e se lo dovete acquistare acquistatelo dal gioco così col codice sconto Coridan 7 avrete anche un bel discount fatemi sapere cosa ne pensate e io adoro veramente la GV e Warhammer soprattutto Warhammer 40.000 ciao ragazzi alla prossima Grazie a tutti